Oh no! Inizia a mancobre, e' superiore. Per quanto riguarda la regola? Per quanto riguarda la regola? Mauro! Ma non c'è niente la scala? E' un'altra ricerca per stanno, si? E' un'altra ricerca per stanno, e' un'altra ricerca per stanno. E' un'altra ricerca per stanno? e' un'altra ricerca per stanno. C'è un'altra ricerca, e' un'altra ricerca per stanno. Dovrete inizia a durare di te. Si! Però che... Come fai a te? Si! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.